Ciao a tutti, giorno 37 di riprese con l'inutilità in persona che ci aiuta, che ci aiuta per modo di dire. Abbiamo superato le cronache da ormai 7 giorni di riprese, perché con le cronache erano esattamente 30 giorni, quindi un mese di riprese per 45 minuti di video, ora stiamo andando molto in là. Assistete alla vestizione del nostro protagonista? Sì. Con problemi, annessi e cintura. Ciao Ismael, hai qualcosa da dire? Sono baccato. Oggi video con Snow, Pan e Ayriston. Anche il collare. Mansioni di un regista. Mettere l'antizzanzare. Agli attori. E a se stessa. Sì. 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 Mi dimentico sempre. Era giusto. No, aspetta. Aspetta. Ma chi sta? Era buona? Sì, sì. No, no. Non bevo. Uno. Ma chi sta? Buona, buona. La geniale idea di quando abbiamo disegnato il costume di Snow. E io ho detto, no, facciamo la scalza. Eh sì. Bello. Bello. Pausetta. Tutti a bere. Un singhiale nella radura. Si sta rubando il cibo. Dimmi che l'hai filmato. Sì. Comunque, non fa così caldo come gli altri giorni. Vabbè, Simone sì, perché l'ha stato dentro Harrison e hai sofferto. Sì. Sì, io sono stata un po' scalza sulle rocce. E un po' con le infradetto. Belle. E invece Sam deve camminare molto. Fate, continua ad andare su e giù per questa stradina. Sì. ... ... ... ... Mio caro